Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Ai domiciliari per stulting e maltrattamenti, ma la madre si rifiuta di accoglierlo in casa a 52 anni e torna in carcere Domani il Bomba Day a Ronco Sambaccio scatta il piano di evacuazione La sanità marchigiana si dota di chirurgia robotica all'avanguardia e diventa un punto di riferimento a livello nazionale I ragazzi del Grizzly assolti in primo grado dall'accusa di occupazione abusiva, una sentenza definita comica da Forza Italia Domenica al Centro Storico di San Costanzo ospita la Sagra Polentara, giunta all'edizione numero 205 Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Dopo quella di San Costanzo, domani verrà disinnescata una bomba d'aereo rinvenuta a Ronco Sambaccio di Fanno Le strade vicine all'area interessata verranno chiuse al traffico e circa 200 persone dovranno evacuare Ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Lino Balestra Verrà fatto brillare domani un ordigno bellico, precisamente una bomba d'aereo inglese del peso di 250 libre lanciata durante il secondo conflitto mondiale rinvenuto lo scorso mese di novembre in un terreno agricolo in località Ronco Sambaccio di Fanno Coordinati dalla prefettura di Peso Rubino, gli artificieri disinnescheranno la bomba che successivamente sarà fatta brillare in un altro luogo Mentre il comune di Fanno e le forze dell'ordine evacueranno 200 residenti Le operazioni dovrebbero iniziare la mattina presto per riaprire la viabilità e anche la possibilità dei residenti appena l'ordigno verrà rimosso Quindi in località Ronco Sambaccio, per un raggio di circa 1000 metri intorno al ritrovamento dell'ordigno Il comune di Fanno, insieme alle forze dell'ordine, provvederà all'evacuazione della popolazione, dei residenti e ovviamente il comune di Fanno provvederà anche al ristoro, qualora ci dovesse essere bisogno Sarà fatto detonare in un luogo? Il genio ha già individuato un luogo dove farlo esplorare? Sì, presso una cava in località Torno, dunque controllata e lontana da qualsiasi tipo di pericolo E una pensionata di 82 anni è stata ritrovata senza vita oggi pomeriggio a Fonte Corniale in provincia di Pesero e Urbino Secondo una prima ricostruzione dei fatti la donna stava per dare fuoco a diarresti di potature nel suo terreno quando appunto le fiamme per cause ancora in corso di accertamento l'avrebbero raggiunta Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fanno e di Pesero che hanno trovato il corpo semicarbonizzato della donna e i carabinieri che stanno indagando sul caso I carabinieri di Fanno invece hanno arrestato un 52enne di Mondolfo per maltrattamenti in famiglia La madre dell'uomo però si è rifiutata di accoglierlo in casa perché troppo pericoloso, sentite I carabinieri di Fanno hanno arrestato un 52enne di Mondolfo per reiterati atti persecutori nei confronti della ex compagna e maltrattamenti al figlio di 14 anni L'uomo sarebbe dovuto andare agli arresti domiciliari a casa della madre che però ha rifiutato di accoglierlo, di fatto spedendolo in carcere La relazione tra il 52enne e la sua ex, della quale era nato un figlio si era conclusa nel 2005 per incompatibilità personali e soprattutto perché l'uomo faceva un uso smodato di alcol Numerose le denunce sporte dalla donna, i carabinieri e altrettanto numerosi provvedimenti dell'autorità giudiziaria sia ordinaria che minorile All'uomo era stato imposto il divieto di avvicinamento alla compagna e dal bambino e gli era stata sospesa la potestà genitoriale Poco tempo fa il 52enne aveva aggredito una pattuglia della polizia di Mondolfo e i carabinieri del posto, per neutralizzarlo, avevano utilizzato uno spray al peperoncino Uscito da una clinica dove era stato ricoverato per disintossicarsi ha però ripreso a perseguitare l'ex compagna andando a cercarla anche sul posto di lavoro e poi per recarsi alla scuola del figlio I carabinieri lo hanno intercettato proprio mentre stava per entrare nell'istituto scolastico Il giudice gli ha concesso gli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre che però ha rifiutato di prenderlo con sé considerandolo troppo pericoloso per tutti Alla polizia penitenziaria non è rimasta altra scelta che condurre l'uomo in carcere in attesa di ulteriori decisioni del magistrato E ancora cronaca, ha perso il controllo dell'auto ed è finita nella scarpata L'incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio dopo le ore 14 a Rosciano di Fano Protagonista del sinistro, una donna rimasta illesa che viaggiava a bordo di una Fiat 500 lungo la strada provinciale 92 Sul posto è intervenuta la polizia locale di Fano per i rilievi di legge Invece a finire fuoristrada a Cerbara, piagge, oggi comune di terre roveresche è stata la conducente di una Ford C-Max che intorno alle 10.17 come vedete dalle immagini per causa ancora in corso di accertamento è finita con l'auto sopra un guardrail Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pesaro e i carabinieri sanitari del 118 Anche in questo caso l'automobilista ne è uscita illesa E adesso parliamo di sanità perché l'azienda ospedaliera Marche Nord ha presentato questa mattina il sistema robotizzato Da Vinci un robot di ultima generazione che permette di fare chirurgia microinvasiva La chirurgia robotica entra in Marche Nord dalla porta principale strumentazione all'avanguardia con il robot Da Vinci del costo di 2.300.000 euro e come capitale umano con l'arrivo del neoprimario Alberto Patriti professionista di fama mondiale che ha raccolto la pesante eredità di Zingaretti 43 anni proveniente da Spoleto dove i suoi pazienti sono in lutto per la sua dipartita vero guru di questa tecnologia E' una scelta molto forte fatta in tempi strettissimi che trasmette appieno quello che immagina il ruolo che Marche Nord deve avere nella sanità marchigiana ovvero un baluardo rispetto alla mobilità passiva verso Nord un luogo di grande eccellenza e qualità che dice che racconta a tutti i marchigiani che possono trovare nella loro regione risposte adeguate ai loro bisogni di salute I pazienti destinati a questa nuova frontiera della chirurgia non invasiva sono pazienti difficili dice il neoprimario dove in passato la laparoscopia non poteva garantire margini di successo e quindi si doveva operare a cielo aperto con un notevole allungamento dei tempi di remissione del paziente e maggiori rischi in sala operatoria Lo stesso primario evidenzia la velocità con cui si è potuto mettere in moto questo nuovo servizio frutto della disponibilità e l'alta competenza di tutta l'equip è un cambiamento che coinvolge non solo l'aspetto tecnologico chirurgico ma tutto l'ospedale perché anche gli infermieri, gli anestesisti, i chirurghi tutti si adeguano a questo nuovo sistema che è volto a rendere più fisiologico l'intervento chirurgico il paziente non deve neanche accorgersi di essere stato operato quindi può rimettersi in piedi, ricominciare a mangiare lo giorno stesso dell'intervento e tornare a casa il più presto possibile anzi è lui che deve chiedere di tornare a casa E la protezione civile delle Marche ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse valido dalle 6 alla mezzanotte di domani per venti sud occidentali con intensità media di vento nelle zone interne e moderata nel resto della regione Durante le ore centrali di domani le raffiche raggiungeranno la burrasca forte nelle zone interne alto collinari e la tempesta invece sul crinale appenninico Cambiamo argomento, i ragazzi del Grizzly che hanno occupato lo stabile in via Colonna a Fano sono stati assolti nella giornata di ieri perché il fatto non costituisce reato Il giudice del Tribunale di Pesaro ha quindi chiuso il giudizio di primo grado con una sentenza di non colpevolezza per i nove giovani imputati dell'occupazione abusiva dell'edificio Sul caso oggi è intervenuto Domenico Carbone di Forza Italia Hanno ragione gli occupanti del Grizzly quando dicono che è una sentenza storica si legge in una nota Infatti da questa sentenza si può immaginare che se occupi un edificio non c'è motivo per essere punito Ma il fatto che queste persone ora rimangano in quei locali è senz'altro una grave responsabilità del comune scrive Carbone Il fatto che l'amministrazione abbia deciso a suo tempo di assegnare quello stabile alle stesse persone che erano sotto processo per averlo occupato è comico Conclude la nota tanto quanto la sentenza di assoluzione E adesso torniamo a parlare del Carnevale di Fano perché a qualche giorno dalla conclusione della Kermess siamo andati a sentire il parere dei commercianti fanisi Saranno rimasti soddisfatti? Vediamo Entrambi i primi cittadini, quello legittimo Massimo Seri e quello protempore carnevalesco, la presidente Gian Marioli sono stati d'accordo Durante il periodo delle sfilate migliaia e migliaia di persone si sono riversate a Fano con una conseguente ricaduta economica sulla città Di parere un po' diverso invece Luciano Cecchini, presidente di alberghi associati che lamenta un apporto alle strutture ricettive soltanto nella terza domenica di sfilate e per il quale la strada da fare è ancora tanta Camperisti, nota dolente, operatori del settore molto soddisfatti che registrano presenze record di questa edizione con 200 mezzi ogni domenica e con punte anche di 500 nella domenica centrale per i quali nei camper viaggiano minimo coppie o famiglie intere che spendono in città ma esponenti della carnevalesca invece sono piuttosto tiepidi verso questa presenza turistica ma sindaco o no, camperisti sì o camperisti no in città perché è stato aperto, ne è valsa la pena? Diciamo che possiamo segnare un pareggio tra chi a telecamera spenta ci ha detto che una gran differenza non c'è stata o addirittura nulla e chi invece ci ha dato una risposta positiva Abbastanza gente in giro, soprattutto in negozio sì, abbiamo visto molto più movimento rispetto al solito Però il carnevale ha portato un po' più di gente? Certo sì, soprattutto turisti, gente di fuori sì Avete visto un incremento di clientela, un maggior movimento? Sì, soprattutto l'ultima domenica del carnevale Ah e quindi ci sono state affluenze maggiori? Sì, sì, sì Solo per sbirciare o hanno anche comprato? No, hanno anche comprato Abbiamo visto un incremento, soprattutto il pomeriggio dopo le quattro perché tanto guardavano la spilata o la mattina quando ci sono le spilate dei bambini, sicuramente sì Tutte e tre le domeniche? Tutte e tre le domeniche abbiamo lavorato Voi avete notato un incremento delle presenze nel vostro negozio? Non abbiamo questa visione perché stiamo rifacendo il locale nuovo, quindi stiamo rinnovando Ho notato chiaramente che c'era molta gente comunque in centro storico Lavori in cosa e quando termineranno a questo punto? Dovrebbero terminare assolutamente per forza stasera e quindi domani apriremo alle nove Abbiamo cambiato un po' Luca E Fano aderisce alla rete dei principali carnevali d'Europa La Giunta Comunale ha infatti approvato l'adesione al Carneval Network Un'iniziativa nata qualche anno fa per coinvolgere le città nella condivisione di esperienze per creare ulteriori opportunità di scambio ma anche di aspetti culturali legati alle manifestazioni carnevalesche Pertanto dal 9 al 12 marzo una delegazione del comune di Fano assieme all'ente carnevalesca volerà a Valencia per partecipare al grande meeting Questo appuntamento rappresenterà un'importante vetrina per presentare il carnevale della città della fortuna oltre che un'occasione per discutere di possibili iniziative di scambio culturale e di progetti europei Saranno invece circa 150 i fanesi che parteciperanno a Foro Urbano l'Open Space Technology in programma domani, sabato 4 marzo dalle ore 9 alle 13 all'ex chiesa Sant'Arcangelo e alla Mimo L'evento è promosso dall'amministrazione comunale nell'ambito del piano strategico Orizzonte Fano Sono state oltre 50 le iscrizioni nelle ultime 24 ore utili di martedì 28 febbraio Un numero sorprendente che ha contribuito a far impennare il conteggio finale che ha spinto gli organizzatori a pensare a discrizioni in last second Domattina presentandosi all'ex chiesa di Sant'Arcangelo entro le ore 9 sarà comunque possibile partecipare all'iniziativa e proporre quindi idee e progetti per la città del 2030 A San Costanzo invece fervono i preparativi per la 205esima edizione della Sagra Polentara La Sagra più antica delle Marche si terrà domenica a San Costanzo è la Sagra Polentara che segna la sua 205esima edizione e che con la sua tradizione centenaria vuole mantenere immutato lo spirito di comunità con la quale è nata dove ognuno si adoperava per lustrare a festa il paese e dove i ceti sociali si livellavano in nome dell'identità paesana I preparativi sono attualmente in corso, in questo momento appunto in piazza stiamo preparando le famose fornacelle le cinque fornacelle dalle quali emergerà questo fantastico oro giallo di San Costanzo così come lo chiamiamo la nostra succulenta polenta e quindi vi invitiamo appunto qui a San Costanzo non soltanto per gustare questo piatto ma soprattutto per visitare il nostro paese, per visitare le sue mostre i vari beni architettonici e storici che contraddistinguono il nostro paese speriamo anche che sia una giornata baciata dal bel tempo anche dal punto di vista organizzativo abbiamo cercato di agevolare tutti quanti i visitatori con un servizio navetta gratuito e oltretutto ecco sottolineo anche la bellissima collaborazione che c'è con la scuola, con la scuola dell'infanzia di San Costanzo quindi ci sarà anche una sfilata dei nostri bambini con una relativa rappresentazione teatrale uno spazio apposito dedicato anche ai ragazzi più giovani con l'Osteria La Bettola che è stata ricavata appunto in un locale storico proprio nelle mura castellane di San Costanzo e con svariati anche generi e gruppi musicali per cui penso che riusciremo ad incontrare davvero i gusti di tutti quanti, sicuramente il palato lo soddisferemo con la nostra polenta La macchina è ben rodata e la sua efficienza pure di generazione in generazione si tramandano le ricette, i trucchi, le usanze ed i modi in cui preparare il gustoso piatto nulla viene fatto a caso, tutto ha un senso come pure la creazione delle fornacelle i tipici braceri sui cui poggiano i caldari in rame dove la polenta viene cotta da sapienti polentari Tutto pronto quindi per passare una giornata a tutto tondo con i gioielli di famiglia a disposizione del pubblico illustrati dalle miniguide, gli scolari della media Vincenzo Monti spettacoli teatrali e mostre varie Stiamo cercando di vestirla bene per far sì che si possa presentare al meglio domenica prossima speriamo ad un foltissimo gruppo di persone che verranno a visitare sia San Costanzo e a degustare la nostra polenta Teniamo conto che ci sono delle collegiate, le chiese da visitare i musei di arte sacra, il museo dei Piceni, le opere d'arte dei Patrizzi i quadri del 600, Madonna con affresco sempre del 600 poi ci sono anche delle foto d'epoca che sono un valore inestimabile per chi vuol conoscere com'era San Costanzo i primi anni del 900 fino al 800 quindi c'è la cultura e c'è anche questa degustazione della nostra polenta che come ben sapete o chi c'è stato non tradisce mai quindi gustatela tranquillamente che ritornerete anche il prossimo anno Alla Sagra Polentara non si viene solo per mangiare un piatto mordi e fuggi si viene per vivere un territorio assaporarne il gusto e ascoltarne i suoni e percepire la storia del luogo e sentirse ne parte E a distanza di 5 anni dalla morte di Lucio Dalla alcuni artisti fanesi si mobilitano per ricordarlo come il cantautore fanese appunto Stefano Fucili che guiderà un concerto a Bologna Anna come sono tante Anna per malosa Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa se chiude gli occhi lei lo sa stella di periferia Anna con le amiche Anna che vorrebbe andar via Che meraviglia e questo diciamo Stefano che è soltanto un assaggio di quello che sarà il concerto un concerto, un omaggio alla grande Lucio Dalla Sì, è da tanti anni che portiamo avanti un progetto che si chiama Piazza Grande con un certo omaggio a Lucio Dalla che tra l'altro è nato a Fano nel 2012 proprio nella Piazza 20 Settembre e quest'anno come abbiamo fatto anche gli altri anni lo faremo a Bologna in questi giorni il 3, il 4, il 5 marzo il 3 e il 5 proprio a Bologna in questi giorni in cui Bologna si sta mobilitando per ricordarlo dopo 5 anni da quando come diceva lui è iniziato per lui il secondo tempo lui diceva così Ecco, sarai proprio tu ad essere il capitano di questo gruppo con te ci saranno anche altri fanesi Sì, il bello di questa cosa è che questo progetto coinvolge diversi artisti fanesi come Fabrizio Bartolucci che farà dei reading ripresi dai testi di Lucio dei musicisti come il chitarrista Tommaso Baldini o Roberto Panaroni al basso poi abbiamo l'Urbinate Stefano Ligi che come me alla fine degli anni 90 collaborò con Lucio fu prodotto da Lucio e poi ci sono altri fanesi che hanno collaborato con lui che hanno fatto altre cose con noi come Armando Dolcio e Elisa Ridolfi poi là ci saranno anche altri collaboratori di Lucio Dalla storici Ma a proposito di collaborazioni ricordiamo anche il tuo rapporto con questo grande canto autore Lucio Dalla è stato il mio primo produttore discografico e ho avuto il grande onore la grande opportunità di scrivere delle canzoni con lui in particolare una che si chiama Anni Luce che lui inserì nel suo album del 2001 che si chiama Luna Matana e chiaramente faremo anche quel brano lì Senti che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande ma quando ho fame di mercanti come me qui non ce n'è e se non ci sarà più gente come me voglio morire in piazza grande tra i gatti che non ha un padrone come me attorno a me E per chiudere vi ricordo che le vostre segnalazioni sono sempre molto importanti per la nostra redazione per cui se volete aggiungete alla vostra rubrica il numero di telefono che vedete in sovraimpressione Io vi ringrazio per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata Grazie a tutti